Allora a tutti ragazzi che c'è qua su EWOWOUT e WEYOUT in compagnia di Ciro come sempre Vedi che ti saluto con la mano guarda ciao Ciro Allora siamo qua al Garden Hill Medical Center Ciro che cosa vuol dire dai Collina di giardino di collina E poi? Centro medico Bravo Ciro Dobbiamo andare a trovare la moglie, compagna, fidanzata Chiamolo come volete Avanti tutta Ciro Beh sei pronto a perdere Sei pronto? Ma perché prima tu? Eh Grifone Grifone Hai già perso Ciro Io c'ho le tattiche qua su Anch'io Beh Eh beh Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco qua su Eh 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 Trick Ah 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 bene Ok Ok perso Ciro Ma no Tu dici Sì io dico Tu dici Sì Sì Dobbiamo vedere di qua o di qua Di qua o di qua Eh Bobo Vabbè Vabbè Gioco Wait Wait Ciro Buongiorno Adesso ci travestiremo da poliziotte vedrai Col pantalone e la maglietta Col pantalone e la maglietta In America veramente le gente nel sensore si mette uno di fronte all'altro Cioè non si mettono a cerchio come noi in Italia o in Europa diciamo in America si mettono uno di fronte all'altro Cioè uno dietro l'altro ecco Invece noi in assessore se tu vedi Ciro vai in un angolo dopo dentro un altro vai in un altro angolo infatti quando Allora finché sono in quattro va bene Quando Se stai in cinque invece Vediamo Beh Che bisogna fare Ah così Io stai all'equilibrio Sì Vabbè dai ci provo No dai Ciro Vabbè Qualcos'altro Una volta che Una volta che Una volta che impari Ciro Ho capito che ti dico vai vai Devi sempre andare a sinistra Vabbè ti basta arrivare a 30 eh Sì dai Cadi Dai Arriva anche tu a 30 Ciro Nè Ciro Eh vabbè dai Aspetta che gli faccio uno scherzo sto qua Ecco qua 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 Ah no devo fargli uno scherzo sto qua Esatto Servono due persone per cambiare una lampadina Ciro Eh I due per una lampadina Che scam Ciro ha detto E' veloce veloce stiamo andando Eh tu vai Arrivo arrivo Eh non abbiamo tutti il giorno eh Eh sì eh Ah l'infermiera Buongiorno Eh beh Ecco perché mi chiamavi Tu vai che aspetta fuori Ciro Eh eh E come mai sono rimasto fuori No Non entrare Sarà l'infermiera fuori No Non voglio vedere il filo di Ciruzzo Non mi piace Non voglio Io voglio vedere fuori Io voglio restare fuori Eh Ciro Come si chiama Ah tua figlia Beh Avanti tutta Ciro Non sapevi neanche che Oh figlia ha detto Eh ma tu hai detto Tu hai detto che Eh Ah ecco bravo Vai vai Vi lascio Ti lascio qua Ciro Eh Chiudo anche la porta eh Dov'è Signorina Ma Dove sta quella cosa delle carte Lancia le carte vai Vedete che accendo la tv no Beh La tra giusto da una Vedo Ma no Sapevo che vuoi fare Posso cambiare cambiare canale Niente Non cambia canale Una volta si faceva così Sai Ciro Eh Niente Eh Non ti vedi più Eh bravo Ciro Vedi Come hai chiamato tua figlia A borsa scendendo con Come devi già saperlo No Io direi che ne so Eh 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 Un nome da hater si serve Beh Ce ne sono tanti un nome da hater eh Beh Ho un'unice disposizione 3 o 4 eh No no Minimo un'unice disposizione No un nome da hater da femmina 1 2 3 3 Minimo 4 5 Come qua da femmina Si si Uh So io che nome Ciro Tanto Inizia con la C e finisce con la A Beh Eh In memoria del mega hater Eh noя Quella di Massente con Eh 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 Vai Ciro Allora abbiamo abbiamo tous che c'era ha chiamato sua figlia chiara no e in onore delle delle vecchie amicizie ciro sanania polizia veramente arrivata ma chi l'ha chiamata vedi ciro che allora vedi dicono perché esatto ciro mi viene mi viene in mente visto che adesso rompono il cacchio sei sul patriarcato su roba sai sui sul maschilismo dei nomi addirittura sai che c'è stato ciro uno studio di un'università tedesca che ha detto che bisogna ricambiare tutti i nomi dei dinosauri perché sono troppo inclusivi verso il maschio ma vabbè sì allora io dico perché si chiama reparto maternità scusa io vado lì divento padre anche no giusto sì aspetta come problema via 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 vai ciro sono qua sotto che ti aspetto io vedi a destra a destra a chi è l'uomo dell'estia perché mi corri dietro la tipa a me porco spamma 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 ok ce le sono le scale ma scusate che vanno su un botto di gente è che pareva è quello di prima questo dai spamma 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 ma quello sarebbe dove sei ciro è che furbo è lo schifo e perché ti stai seguendo ciro capo e vado via c'è il dottore in corsia tiro salta la barella attento a chi donne quello era piccanto che ti cliccano una devo andare dritto io vai sponclico sponclico vai avanti tuta sì ma il poliziotto che usa il poliziotto che è rimasto chiuso fuori perché non batte a voi vedi davanti a vendita in modo per scappare va qua qua no no c'è qualcosa si no dobbiamo scappare vai vai davanti alla porta ah ezz vediamo come scappi ah ti fai beccare ah ti fai beccare no attenzione oh che mi porco eh ciro eh vabbè ciro però che cacchio ah ma devo continuare a spammare perché non mi diceva premi rapidamente ma dai ma che scammata dai oh vai io stavo aspettando pensavo che mi faceva andare via no no dai all clear vai vai capo e vado via allora vai sponclico sponclico vedi eh sì eh ma poteva dire premi rapidamente eh vai ciro e si è messo un po' peggio tu eh che saluzione ma perché sempre x cioè vai nella vent ciro vedi tu avevi quello di spammare io no non è giusto ah eh vai vai che poi la camu fa dei movimenti bellissimi eh cioè vai eh aspetta che devo bloccare le robe io ciro eh che cacchio eh beh eh beh ma sapò eh vai sponclico x non lo so perfetto guarda che devo contrattaccare eh vai ma niente non contrattacco oh 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 un po' attento ok quello è quello di prima uno quello è quello di prima sì eh 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 attenzione vai vai contrattacco ma io spammare y non mi fa contrattaccare quindi un pugno se lo deve prendere ancora qua non mi piace sto pezzo però così fatto tipo in 2D che devo fare x o y uh y no c'è non è tipo non si fa hai due colpito eh pure quanti sono vai ciro toccasci a te find vai ciro find qualcosa è appunto ciro fate trovare da lei ciro non c'è lì ok un bel salto esatto perché la polizia va via no sta in un pancheggio dove sta è arrivando e beh non ti sento no eh ciro è il piano di sopra eh è che sono già sotto io ciro vedi esatto vieni con me dietro vai vai io sparo colpi mai api sparo clicca va vai ancora sparo comunque in casa di mano era te e x oh beh ma io dico sì aia ma stanno cercando lui appunto ah proprio è il tipo che parla giornale li ha visti no stay safe giro ci informi subito eh capo e vado via c'è la polizia eh eh e mo perfetto ci sono beh c'è ancora del tutto al sicuro eh vedi eccolo lì potevi non correre no così non ti beccavano beh due piani hai fatto giro eh non hai fatto scala muro ma sono proprio sulla macchina che fortuna eh ma non è la mia però quindi cioè la nostra macchina che abbiamo preso in prestito dai ma dai vai giro siamo 10v1 1v10 ho capito dove sta la macchina ah ma è quella non è quella lì la questa questa è quella qua vai ora si fa eh ma non guardare dai mannaggia ma non c'è i fuciloni in macchina no sono in calcofano sali sappo sali arrivo arrivo io potrei anche restare eh Ciro eh mi dispiace tizia vai 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 Ciro con le gomme antiproiettile di GTA esatto eh avanti tutte queste ore su GTA Ciro hanno fruttato qualcosa eh appunto ma molto bene molto bene avanti tutta avanti tutta sempre il meglio ok bene bene siamo riusciti a scappare dall'ospedale ci siamo in un aeroporto quindi nessuno ci insegue eccetera eccetera io ragazzi vi ringrazio di essere stati qua con me come sempre ci vediamo in un prossimo video live eccetera eccetera io vi ringrazio a tutti come sempre ciao ragazzi ciao 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 ciao